Ciao e benvenuti in un nuovo video Oggi sono qui per fare un video chiacchiere Quindi mettetevi camodi, prendete un tè freddo, non lo so, della frutta fresca e rilassatevi perché dovreste avere voglia e tempo di sentire le mie chiacchiere Voglio parlare forse dell'argomento che mi sta più a cuore qui sul canale YouTube Un argomento frivolo ma che allo stesso tempo può arrivare a toccare delle corde un pochino più profonde Voglio parlare di make-up Make-up inteso come una forma d'arte In quanto make-up artist professionista è un tema che mi sta molto al cuore e che ho sempre trattato qui sul canale Ultimamente mi sono dovuta prendere dei momenti di pausa forzata da YouTube dal realizzare video su YouTube causa lavoro ma soprattutto ho sviluppato questa riflessione che oggi qui vi esporrò in una settimana, dieci giorni in cui sono stata malata a casa quindi non potevo realizzare video su YouTube ma potevo continuare a guardarmi anzi avevo molto molto tempo per guardarli dato che ero costretta sul divano, sul letto Mi è partita questa riflessione su come sia cambiata la concezione di make-up negli ultimi anni io direi piuttosto nell'ultimo anno YouTube ne è solo poi lo specchio, il riflesso di quello che è effettivamente il cambiamento Il make-up ormai è praticamente quasi solo inteso come espressione della propria arte nella forma più stravagante, creativa e a volte anche eccessiva possibile vedo make-up esagerati esagerati non perché non portabili, non perché too much ognuno è sempre libero di esprimere la propria arte e la propria creatività come meglio crede però è come se ci si fosse un po' tutti omologati sulla stessa linea di pensiero e allora quella non è creatività, diventa allo stesso modo omologazione diventa allo stesso modo un creare qualcosa di creativo, colorato, colorful, power, super glow ma solo perché tutti stanno facendo così e mi sento un po' di distinguermi di uscire dalla massa rispetto a tutto ciò non so se questo cambiamento di questa visione nuova del make-up è stato portato anche magari con l'avvento di NYX in Italia perché sicuramente NYX è un brand che favorisce la creatività l'esprimere se stessi, non pregiudizio quindi il make-up come forma d'arte nella sua forma più evoluta, più alta ma credo che anche in quel caso però ci debba essere sempre un equilibrio questo è il mio pensiero personalissimo e ovviamente ci si può discussare anche da questo credo che però ci serva sempre un equilibrio da ciò che è arte, creatività, estro e ciò che invece è cattivo gusto credo che si sia perso un po' questo confine e si veda al make-up solo come alla forma d'arte quindi al mettermi tanti colori in faccia, più colori possibile a farmi super glow perché ormai non si fa altro che parlare di illuminante less non vuole essere una critica a NYX non vuole essere una critica a chi vede e interpreta il make-up in una certa maniera però ci tengo qui oggi a ribadire la mia piccola fetta di creatività nella mia piccola fetta, nel mio piccolo range che penso voi possiate capirmi voi che seguite il mio canale ormai mi avete capito da un po' di anni che il make-up non è solo quello è anche quello ma ultimamente vedo solo quello il make-up è anche un modo per coprire un difetto che non ci fa sentire al nostro agio come può essere una macchia solare su un viso il make-up è anche forma di correzione come ad esempio non riesco ad aggettare il mio naso e vado quindi a camuffarlo per renderlo più armonioso con il viso il make-up è anche espressione della propria forma d'arte in una maniera molto sobria ed elegante quando faccio questo discorso mi vengono in mente i make-up che realizzo quotidianamente su me stessa non mi adate oggi che ho praticamente tanto per rimanere in linea col discorso ho solo mascara e un rossetto quindi ok questo può essere un make-up però è questo che voglio far passare anche applicare un solo prodotto sul viso può essere la nostra forma d'arte non è detto che la forma d'arte debba essere per forza un qualcosa di super colorato e che non rientri bene nelle nostre corde credo che ormai si vada solo verso quella visione quando in realtà il make-up è a 360 gradi e quando vi stavo dicendo quando mi viene in mente questo discorso mi viene in mente l'esempio di truccatrice per me top che dove vuoi arrivare io vorrei arrivare lì che è Lisa Eldridge non so se la seguite è una make-up famosissima fa anche video su youtube e ovviamente vi lascio il link giù nell'info box se non la seguite perché lei incarna il concetto che voglio spiegare realizza dei make-up super naturali che quasi non sembrano make-up ma che ti cambiano il volto in una maniera impressionante e quella è la mia idea di trucco quella è la mia idea di make-up e ci teniamo un po' a dire la mia in questo marasmo che ormai è diventato youtube in questa miriade di video di make-up in questa miriade di vlogger, youtuber, beauty e le vedo tutte uguali ultimamente non so se poi è la scelta che ho fatto io nelle iscritti cioè questo dipende dai canali a cui io sono iscritta ma in realtà sono iscritta a tantissimi canali veramente dei paesi più disparati delle età più disparate quindi è un po' questa ondata che è più moda che creatività e arte e non volevo si fraintendesse poi il significato del make-up e volevo soprattutto dire la mia a riguardo quindi ci tengo tantissimo a sapere cosa ne pensate voi dell'argomento io spero di essermi spiegata nei miei pensieri al solito confusionari perché io non mi scrivo una scaletta non so parlo a braccio quindi a volte magari può risultare confusionario come quello che c'era nella mia testa d'altronde quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate cosa è per voi il make-up se vi ritrovate in questa espressione del make-up a livelli estremi quindi super colorata super powerful una volta è un pochino eccessiva è un pochino poco portabile per tutti i giorni ci tengo a presiciare poco portabile per tutti i giorni o seppure anche voi vi incasellate se così si può dire in una visione di make-up più naturale più correttiva più beauty più di abbellimento piuttosto che di trasformazione del proprio volto e del proprio corpo quindi fatemi sapere assolutamente nei commenti cosa pensate io risponderò ovviamente ovviamente ad ognuna di voi come sempre grazie per aver ascoltato le mie chiacchiere e il mio pensiero vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima ciao